Ben cinque dei team World Tour presenti qui al Giro d'Italia utilizzano selle Fizzicche e a seguire i rapporti tra Fizzicche e le squadre è Gabriele Benedetti. Abbiamo visto selle particolari diverse dal solito, parecchi corridori utilizzano selle Fizzicche come un'imbottitura molto strana. Di cosa si tratta Gabriele? Beh è una nuova tecnologia che abbiamo introdotto l'anno scorso, è una tecnologia a stampa 3D con una costruzione alveorale che consente di ottenere un comfort molto molto elevato, consente di poter avere zone con densità differenziate lungo la sella e di andare a scaricare le zone dove un corridore può avere dei picchi di pressione. In pratica è un'imbottitura che si ottiene senza differenziare le classiche schiume, ma appunto utilizzando questa struttura alveolare. Esatto, dunque c'è questa macchina che stampa 3D andando appunto a creare delle zone più morbide e più rigide. Tantissimi corridori abbiamo visto utilizzarla, ma potrebbe essere questa la sella del futuro Gabriele? Diciamo che anche attualmente a Giro d'Italia abbiamo più di 20 corridori che la stanno utilizzando e è una tecnologia che sì, possiamo dire che può essere la tecnologia del futuro.